buongiorno a tutti venerdì 3 novembre 7 05 buona giornata molto bagnata buongiorno buongiorno a tutti difficoltà stavanti a venire sì sì la famosa milano 30 all'ora oggi è anche a 20 anche a 20 e 20 mila leghe sotto i mari anche la zona dell'ippodromo su 20 centimetri d'acqua tutti chissà cosa sta succedendo allora zona zara zona isola zona seveso anche le altre ragioni sappiamo già di tre morti in toscana situazione complicata per il maltempo complicata complicatissima e non credo che oggi vada a migliorare oggi in realtà dopo arriva il sole come sempre poi alle 10 arriva il sole pensa che avevo preso in considerazione la bici perché doveva finire alle 4 stanotte e invece no ma invece continua continua anche bella bella copiosa a scendere la pioggia su milano e allora cercheremo noi di portarvi il sole nelle vostre case con questa mattinata insieme qui a good morning milano ricordiamo i nostri contatti 3 3 1 7 8 5 3 5 5 5 se ci volete scrivere mandarci foto quello che volete anche solo il buongiorno e vi ricordiamo che ci volete vedere ci potete vedere sul profilo youtube di milano news e bene sì potete vederci riascoltarci tutto quello che abbiamo qui in trasmissione ve lo rimettiamo sul piatto poi e potete tranquillamente prenderli a pezzettini perché se ve lo siete persi noi siamo indulgenti 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 e andiamo con la musica ernia brescia fabbifibra ernia brescia fabbifibra para fulmini che oggi no in realtà non ci sono i fulmini perché proprio un acquazzone di quelli belli belli pieni belli pieni tant'è che sul sito del comune cosa è uscito ieri sera magari valido adesso potete leggerlo ancora posto del comune 16 ore fa il centro funzionale monitoraggio rischi della regione lombardia è manata un'alerta gialla ti ricordi quella è quella di due giorni fa sostanzialmente rischio ordinario per rischio idraulico idrogeologico e per temporali sul territorio di milano un'alerta già in essere da stamani quindi ieri prosegue fino a domani venerdì 3 ottobre e poi classiche raccomandazioni di non so stare sotto gli alberi impalcatura di cantieri de orse eccetera 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 mi dico che si mette sotto l'impalcatura di un cantiere mentre sta andando giù un acquazzone del genere per ripararsi dici per ripararsi però c'è anche vento oppure per il momento no la voglia sì c'è anche tanto vento c'è anche tanto vento c'è anche tanto vento nel frattempo comunque ci stanno scrivendo appunto al nostro 3317853555 ci scrive Alberto che dice buongiorno amici di Cristal Radio buongiorno Alberto buongiorno anche oggi una giornata complicata a causa maltempo e in zona sud milano già diverse strade allagate credo che questa zona sud milano diverse strade allagate possiamo declinarlo in zona nord milano diverse strade zona est milano zona centro mi sa tanto che qui tutta la città è sott'acqua dopo leggiamo per bene ma si quantificano danni per 11 milioni con il temporale di due giorni fa di due giorni fa sì sì poi leggeremo bene ho detto probabilmente sto facendo colazione poi adesso abbiamo sicuramente tempo di leggerla meglio non piove solo su Milano perché c'è anche un messaggio anche da Bergamo che dice buongiorno sono sempre quella da Bergamo qui piove tantissimo infatti ho fatto una gran fatica a mollare il mio letto effettivamente oggi non è proprio perché poi oggi è strano oggi è un martedì alla fine ci pensi no? vabbè oggi è un venerdì a tutti gli effetti ma è anche un martedì sì ok perché si arrivi dopo due giorni quindi è un giorno strano oggi che hai voglia di stare a casa quello secondo me anche perché fuori ti dà un vento veramente assurdo io sentivo dalle tapparelle che non è non è un nonno che ha perso la dentiera sta parlando no è invece il vento che sferza sulle tue finestre in quel della Bovisa bravo sta in radio a guardare il telefono soprattutto il profilo twitter mentre guidate magari no twitter e sito di ATM perché sicuramente ci saranno infatti ci sono già due indicazioni tram 7 sul tram 7 sostituito da un bus tra Viale e Fulvio Testi e via Santa Marcellina e quindi c'è la parte sopra che sta partendo sì infatti in alternativa dice usate l'M5 perché c'è un guasto agli impianti anche il tram 31 ha la circolazione rallentata per un guasto agli impianti vorrei che magari appunto qualche rametto qualche tronchetto della felicità poco felice è caduto magari già su qualche linea però vabbè staremo a vedere mentre qualche ora fa sul profilo twitter fu twitter ora x azienda trasporti milanese ripubblica retwitta delle slide del dipartimento di protezione civile cosa fare in caso di maltempo seguite ATM su x ma soprattutto seguite adesso il collegamento con luce verde che ci dà proprio la fotografia della viabilità in questo momento sulla nostra città il traffico e tutto quello che ne consegue Purple Disco Machine Something on my mind bentornati su Cristal Radio bentornati a un nuovo appuntamento con Good Morning Milano sempre qui tutte le mattine per raccontarvi un po' quel che succede nella nostra città e anche magari nelle zone limitrofe quest'oggi è facile da raccontare perché è acqua acqua dappertutto infatti stavamo anticipando prima ho letto bene durante la mia veloce colazione del mattino quanti danni ha fatto la risondazione del Seviso titola Milano Today sostanzialmente ieri è stato interpellato il sindaco e ha dichiarato una stima dei danni non l'abbiamo ancora fatta pensiamo a gestirli e poi appunto vedremo i danni mentre Marco Barbieri segretario generale di Commercio Milano invece ha dichiarato che dai primi riscontri delle zone interessate circa 2000 attività commerciali nei quartieri di Isola Fulvio Testi, quelle più colpite quindi a Nord Milano il 70% ha subito danni ad arredi, deor, cantine, magazine e merci non si è ancora fatta una stima precisa ma una prima così complessiva potrebbe superare appunto gli 11 milioni di euro 11 milioni di euro danni per la risondazione del Seviso di martedì 31 ottobre oggi da quello che un occhio umano può vedere sembra che la situazione sia più complicata addirittura rispetto a quella di due giorni fa pure, cioè non bastava, mamma mia, va beh e quindi, no lo so perché comunque abbiamo visto veramente delle immagini pazzesche arrivare da quelle zone arrivare da delle foto, dei video che veramente è qualcosa di assurdo adesso in questo momento su X se scrivete Milano è il social più veloce alla fine se scrivete Milano trovate, andate in video trovate una sfilza di milanesi che pubblicano il video delle loro vie e non sono le feste di vie ma sono gli allagamenti di vie sono gli allagamenti che quest'anno appunto, ripeto, coinvolgono che questa volta rispetto a martedì 31 ottobre coinvolgono praticamente metà dell'Italia se non di più anche mi sembra che anche al sud stia facendo danni pure, pure, pure io sto volando qua in realtà come dicevi appunto le precipitazioni poi dovrebbero fermarsi intorno tra le 10 e le 11 dovrebbero poi in realtà fermarsi anzi le temperature sono andate poi di nuovo in risalita fino ad arrivare a 15-16 gradi nel pomeriggio quindi in realtà poi dovrebbe tutto tornare alla normalità speriamo che smetta in fretta nel senso che veramente la situazione è a rischio abbiamo sentito appunto in luce verde lo ripetiamo, svincolo di Lambrate la tangenzale è chiuso per via precauzionale per paura dell'esodazione del Lambro quindi anche il Lambro sotto controllo il Seveso adesso vedremo un attimino ma cerchiamo di capire in che situazione è anche perché abbiamo visto veramente l'altro ieri che è diventato, non c'è così, la settimana che giorno era? martedì? martedì, martedì tenete conto martedì insomma che davvero questa volta i problemi sono arrivati fino in piazzale d'agosta e anche oltre abbiamo visto poi appunto Garibaldi cioè insomma una grande fetta di città rimasta sott'acqua possiamo continuare con la musica o è qualcosa che vuoi dirci? no possiamo andare sì però possiamo anche aspettare dai è mattina già stiamo andando un po' di notizie un po' così andiamo di musica andiamo con un po' di musica vabbè loro sono un gruppo che è tornato pensa nel 2021 palindromi 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 sono gli unici no se ne sono forse anche beh sono i Nine Inch Nails che sono l'in come logo però effettivamente no come gli Abba non ce ne sono e infatti nel 2021 tornano con I Still Have Faith In You colla zio non mi va 7 e 31 minuti eccoci qua tornati dopo la piccola pausa pubblicità e continuiamo appunto a vedere un po' quello che succede con un occhio alla finestra un orecchio al meteo e poi invece le mani sul computer di Masieri che vede le notizie se state guidando se state guidando ascoltate e basta allora domani Milano sarà teatro di due manifestazioni in antitesi ovviamente sulla vicenda recente del conflitto israelo-palestinese alle 15 Largo Cairoli si ritroveranno i manifestanti chiamati principalmente dalla Lega per l'appuntamento intitolato in difesa dell'Occidente dei diritti della sicurezza della pace e delle libertà mentre in piazza Overdan ci sarà il corteo opposto organizzato da Milano antifascista antirazzista metice solidale a cui hanno addirittura già diverse sigle della sinistra della sinistra e dei collettivi e le associazioni italiane dei palestinesi quindi domani praticamente in contemporanea due manifestazioni completamente in antitesi sul territorio milanese e quindi anche lì poi oltre a tutto quanto i mezzi pubblici saranno cambiati tutta la solita storia ormai i milanesi sanno che il sabato il sabato mattina i milanesi si svegliano con la notifica di ATM che dice manifestazione in corso deviate le linee tot 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 e la domenica si svegliano con gara sportiva in corso deviate le linee tot 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 si è vero è un po' così ultimamente abbiamo notato che vuol dire che è viva la città effettivamente segno di una città viva che fa cose tra l'altro i muri di Milano purtroppo sono saliti dalla ribalta anche negli ultimi giorni perché come sai Salvini leader del Carroccio che ha appunto chiamato le persone in Largo Cairoli per domani alle 15 è stato anche vittima di un murale in piazzale Libia in cui è stato scritto Salvini deve morire targato Z4 che sarebbe zona 4 immagino ma non so saranno un collettivo da quella parte lì credo e nulla l'hanno ripartato tutti anche tutti i telegiornali perché comunque si tratta insomma adesso va bene tutto un pochino esagerato il fatto che lo riporti in una telegiornale no 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 il fatto di minacciare di morte una persona con un murale adesso va bene tutto assolutamente soprattutto se si tratta anche di comunque un'istituzione un po' too much forse vero è che l'altro non fa niente per eduncorare il momento cosa del genere però insomma non è che il te lo vai a cercare non mi piace mai quindi insomma diciamo va bene tutto ben venga urlare contro ben venga insultare la gente in un certo limite cioè si può stare un politico che viene insultato tra me un po' lo deve mettere in conto anche assolutamente la minaccia la minaccia è un po' troppo siamo a novembre siamo a novembre oggettivamente siamo a novembre e siamo solo al 3 novembre siamo solo a novembre però io non so se ve lo metterò tutti i giorni o no ma sto pensando di metterla tutti i giorni questa canzone adesso parlo con l'ufficio programmazione vediamo se posso farvi questa roba per chi vorrà istituire un po' sai come quella roba di la Christmas che non devi ascoltare durante Natale ecco io vorrei che a novembre vi ascoltate tutti i giorni Giussi Ferreri con novembre invece cioè tutti i sacrostanti giorni ci ascoltiamo Giussi Ferreri con novembre perché ci devi ricordare che siamo a novembre io dico che i nostri ascoltatori facciamo già abbastanza torti dici questo no Giussi Ferreri novembre Giussi Ferreri novembre dal 2008 15 anni fa prima edizione di X Factor pensa te non vinta 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 ti ricordi di Giussi Ferreri nessuno se ne ricorda invece Giussi Ferreri sì perché è ancora qui con noi e quindi un saluto a tutto l'S Lunga di Corbetta perché ricordiamo che lei lavorava all'S Lunga di Corbetta quindi un saluto a tutti quelli di Corbetta soprattutto chi stanno a lavorare all'S Lunga di Corbetta chissà che un giorno diventate la nuova Giussi Ferreri non so quante probabilità ci sono che nello stesso S Lunga nello stesso paese nello stesso supermercato possa nascere un'altra star però chi lo sa magari sono come i ristoranti a Hollywood dove ci sono le cameriere che poi diventano Giulia Roberts diventano le grandi star di Hollywood ma magari Corbetta is the new Hollywood ah bello sarebbe un bello spot chiamiamo ormai il nostro amico Marco Ballarini facciamo il Corbetta is the new Hollywood Giussi Ferreri io l'ho visto una volta ero a vedere Masini si era a vedere il concerto di Marco Ballarini all'inercià tu omonimo esatto e c'era in platea Giussi Ferreri si Sergio Conforti in arte roccotanica si e Simone Tommassini chi è il mio zio? no Simone Tommassini è stato tanto tempo fa beh l'ha chiamata così bene che nessuno l'ha riconosciuta sicuramente soprattutto le donne l'avranno riconosciuta perché era era anche diventato famoso perché sono un bel ragazzo io conosco Luca Tommasini Luca Tommasini è il coreografo coreografo si l'hai dovuto cercare non mi ricordavo il nome ho scritto Tommasini X-Facto su Google ho scritto Tommasini X-Facto su Google perché non mi ricordavo come si chiama Tommasini non lo fa più credo da dieci anni ormai no però di quelle edizioni lì mi ricordo Matteo Beccucci che ha vinto la seconda edizione Matteo Beccucci si ah il biondino il biondino si 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 mentre c'era Mengoni se non sbaglio credo di si se non la seconda e la terza c'era Mengoni perché parliamo di X-Factor oggi perché ieri c'era era giovedì e c'è stato X-Facto ah non lo so io non seguo è Aborro 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 questa ce l'ho questa ce l'ho ho capito la citazione Mughiniana di questo Aborro no però Mughini era che Aborrava o era Scalfaro e anche Scalfaro a un certo punto io non ci sto Scalfaro non ci stava Scalfaro non ci stava Scalfaro non ci stava il discorso di fine anno più breve della storia della Repubblica bene sì sì no 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 invece Mughini non era un discorso di fine anno era una sua uscita era una sua uscita 7.40 ci sono un po' di c'è un treno che parte alle 7.40 nell'ora di punta e più o meno no sì sì Seveso piccolo aggiornamento perché la polizia locale dichiara che il Seveso è in aumento ed è in stato di preallarme siamo in pronte a intervenire comunque dicono dalla sala operativa mentre il Lambro ha superato il livello di allarme anche se non sono arrivate segnalazioni di grossi problemi dice appunto la polizia locale per quanto riguarda invece ehm ecco note un po' più colorate ieri sono stati annunciati due mega concerti ah due mega concerti in a che ci saranno a Milano la prossima estate poi ci sarà tutto il dibattito eccetera eccetera l'importante è che non siano i contemporanei siano gestiti bene benvengano perché ci sono due date del boss a San Siro Bruce Preston e i Green Day tornano a Milano agli High Days dell'ippodromo dell'ippodromo la Maura la Maura attenzione attenzione l'ippodromo la Maura non fate confusione che magari ce n'è un altro l'ippodromo mi mettete a navigare così in mezzo al nulla della periferia ovest quando invece dovete andare appunto alla Maura l'hai nominato prima Mengoni bene lo so ascoltiamo insieme a Franco 126 un'altra storia 1 metro e 54 ok 1.54 prenditi questo numero ok lo metto qua ok 1.54 il 31 nel momento top arrivò a 3 metri 07 quindi siamo a metà del disastro dell'altro giorno ok per adesso quindi il problemino è che qui davanti ho il grafico e il trend è in picchiata in su non in giù cioè sta salendo a dismisura velocemente fate conto che guardate vi do un altro dato alle 5 della mattina di oggi era 0.56 alle 7.40 ah proprio proprio in tempo reale alle 7.40 1.54 quindi si è fatto un metro in due ore praticamente neanche ma speriamo appunto che anzi si anticipi il bel tempo previsto nel corso della giornata smetta la pioggia in maniera da evitare appunto ulteriori danni ricordiamo i stimati inizialmente 11 milioni di danni di due giorni fa ne sono nella zona se non sbaglio di Fulvio Testi Isola che è stata quella più colpita certo però sicuramente bisogna aggiungere anche altro bisogna anche aggiungere tutti i costi che derivano dal fatto che siano state per tutto il giorno comunque deviate le linee di ATM eccetera tra virgolette mettiamola giù così è andata anche abbastanza bene perché c'è un po' di gente che è fuori per il ponte sì il problema grosso i grossi danni saranno invece quelli del fango nei negozi nelle cantine nei box negli appartamenti perché abbiamo visto appartamenti a pian terreno perché a Milano a volte ci si dimentica ma c'è gente che capita a pian terreno non è che sono tutti nei palazzi nelle torri d'avorio come te alla Bovisa nel senso c'è gente che e abbiamo visto ma centimetri centimetri di fango entrare nelle case e sappiamo il danno che fa l'acqua la cosa peggiore è che il danno lo fa quando arriva perché bagna tutto perché e quando se ne va perché rilascia tutto il fango che poi diventa cemento praticamente è anche non semplice da tirare fuori da casa immagina poi l'odore e la muffa e tutto quello cioè perché te lo saluti ma anche il grass porcellanato te lo saluti quasi pensa i danni che può fare ragazzi occhio oggi c'è poco da fare oggi siamo un po' monotematici però è questo il tema veramente siamo abbastanza preoccupati perché visto quello che è successo non vorremmo che si ripeta un'altra volta assolutamente piccola notizia come sapete ieri è stato iscritto al famedio il nome di Silvio Berlusconi tra i 14 nuovi milanesi alla cerimonia grandi polemiche per la frase di Elena Buscemi presidente del consiglio comunale appunto di Milano che dice nelle personalità che scriviamo al famedio Milano può riscoprire la sua pluralità e diversità eccetera eccetera sostanzialmente parla in particolare di Berlusconi Sala dice Milano è forte perché c'è diversità ma Marcello Dell'Utri che era tra gli ospiti della cerimonia penso si trattasse di ospiti all'uscita ha criticato fortemente appunto le parole della presidente del consiglio del comune mi sembra che si voglia per forza sempre far polemiche mi sembra che abbia detto una cosa quasi intelligente mettiamo anche nomi che magari possono sembrare divisivi ma lo facciamo ma perché nella frase non avevo scemi anche parlato di personalità criticata e quindi Marcello Dell'Utri ha detto che non era quello momento e sostanzialmente ha detto anche Mazzini e Cavour sono stati criticati magari all'epoca quando hanno messo i nomi hanno detto queste personalità criticate come Mazzini e Cavour però mi piace che il paragone è sempre al rialzo quindi si porta il cavaliere all'altezza di Mazzini e Cavour di Mazzini e Cavour ricordiamo che Berlusconi era un grande fan di Mazzini ha anche titolato il Belvedere di Palazzo Lombardia abbiamo dato notizia un mesetto fa di ciò quante cose intitoleremo Berlusconi entro la fine del 2025 sicuramente il ponte sicuramente il ponte ah beh però quello non lo fanno quindi vai tranquillo non lo fanno fanno prima fare il ponte da Ghisolfa nuovo guarda se vuoi fanno prima fare l'aciclabile forse sarebbe bello intitolare l'aciclabile a Silvio Berlusconi sarebbe un bello scherzo sarebbe va bene ma lui era un amico dell'ambiente anche con i cagnolini ad andare in giro insomma va bene no dici che non la prenderebbero bene io dico solo va bene io dico solo va bene i nostri amici del com'è che si chiamano se non ora quando com'è che abbiamo le tasche piene abbiamo le ruote piene i ragazzi che vogliono l'aciclabile c'hanno un nome divertente che mi piace ma c'hanno un bel nome che mi piace adesso poi lo vado a cercare e ve lo racconto adesso invece diamo la linea a Neffa che ci dice a Gioberso Zonno insieme a Koetz a Gioberso Zonno ma si ma si a Gioberso Zonno a me a me lo dici a Gioberso Zonno perché qua piove 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 questa era Neffa insieme a Koetz basta si è andato in salita si fa così quando ho fatto il corso di speaker non sembrerebbe ma di lettura interpretata faceva quella roba che era essere o non essere this is the problem diceva le frasi vanno tenute alte e adesso deve entrare il finale sembra che il social media manager di regione Lombardia guardi Good Morning Milano che magari lo guarda e lo ascolta un saluto al social media manager di regione Lombardia più che noi guarda Tamara Malleo perché 22 ore fa la regione Lombardia ha scritto un post dicendo nell'ambito del progetto Next ne abbiamo parlato appunto ieri con Tamara Malleo lunedì 6 martedì 7 novembre presso i teatri Elfo Puccini e Franco Parenti verranno presentate le anteprime delle produzioni di Prosa per partecipare c'è un link andate a cercare bisogna semplicemente compilare il form di iscrizione entro venerdì 3 novembre quindi entro oggi posso darti un compito adesso andiamo in pausa vorrei un compito vorrei sapere come è finito il contest dei biglietti di Mazzei io non li ho vinti tu non li hai vinti no non li ho vinti non hai neanche partecipato no perché visto che mi dicevi appunto di iscriversi è venuto in mente appunto questa cosa del contest di Mazzei che abbiamo detto notizia l'altro ieri i biglietti i biglietti del consigliere comunale Mazzei che sono stati messi in paglio su Instagram per la partita di a detta sua una squadra minore di Milano perché era il Milan perché lui è un interista e quindi ci aveva fatto un po' sorridere questa formula della roulette su Instagram per regalare questi biglietti che i consiglieri hanno gratuitamente quindi c'è anche un bel gesto quello di regalarla però ci aveva divertito la modalità come dicevo appunto quindi Mazzei compito per le vacanze no compito per la pausa adesso pausa Depeche Mode ci sentiamo dopo Vogue Madonna Ben ritrovati bentornati seconda ora in vostra compagnia e anche nostra in compagnia anche di Lorenzo Masieri in compagnia delle notizie che arrivano qui a Good Morning Milano sì stavamo parlando abbiamo verificato un po' i livelli appunto del Seveso nel corso della pausa nel corso del break pubblicitario stavamo appunto constatando che cresce di 6 cm negli ultimi 10 minuti negli ultimi 10 minuti è cresciuto di 6 cm sì se faccio il corso sì 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 dalle 7.40 7.50 alle 8 mi dà questo dato il livello idrometrico della di Val Furva della stazione di metropolitane milanesi di MM di Val Furva mi dà adesso che alle alle 8.00 quindi 13 minuti fa era a 1.60 quando abbiamo iniziato a parlare noi prima era a 1.45 pensa alle 7.20 e informandoci abbiamo anche visto che sostanzialmente il famoso dibattito sulla vasca di laminazione eccetera eccetera ci stavano chiedendo ma che punto è ma è completata non completata allora se ne parlava poco non è che tanti hanno titolato dicendo ah ma la vasca di laminazione è una cosa un po' insordina si sono dovuti informare per bene la vasca di laminazione è pronta ok però martedì per esempio non è stata utilizzata perché mancava ancora il collaudo collaudo che dovrebbe essere stato fatto nei giorni precedenti e oggi dovrebbe esserci sostanzialmente una prova funzionale e stavo appunto dicendo quale giorno migliore per una vasca di laminazione oggi la prova la fai bene oggi la prova la fai bene quindi capiremo capiremo e ricordiamo sempre che la vasca di laminazione non è detto assolutamente che sia la soluzione alle esondazioni di Milano bisogna capire le posizioni dei comitati noi le abbiamo intervistati anche vi invitiamo a recuperare l'intervista il comitato Bresson o Vasca hanno le loro ragioni sono da ascoltare ovviamente poi si può avere tranquillamente tutte le posizioni che si vuole sulla vicenda per Granelli ricordiamo che la vasca di laminazione è sostanzialmente la via maestra per contrastare le esondazioni adesso adesso che in funzione ci sono più scuse capiremo 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 il problema è che noi stiamo ponendo molta attenzione sul Seves ho visto quello che è successo nei giorni scorsi ma non è l'unico punto critico sempre dal sito del come si chiama l'agenzia interregionale per il fiume Po ho visto un altro pallino rosso su Milano e ho detto ah sarà il Lambro e invece peggio è la conca fallata quindi zona sud di Milano dove passa il Lambro Sud viene chiamato in un certo senso e anche il Naviglio che in questo momento è in zona rossa critica perché ha visto passare il suo livello idrometrico da stamattina alle 3 stamattina alle 3 era 1,92 adesso siamo a 3 metri quindi superata la soglia dei 3 metri che è proprio la soglia di allarme il 31 arrivò a 3,32 quindi siamo veramente anche lì sul limite dell'esondazione sul limite appunto del riversamento poi che poi il problema è quello spesso che poi questi riversamenti avvengono tramite i tombini perché molti di questi fiumi o comunque torrenti che ci sono sotto la città sono tombinati e poi da dove escono escono dai tombini infatti ricordiamo che il grande tema è quella roba lì è la cementificazione che c'è a Milano con il suo mo' di suolo ricordiamo come ha detto Monguzzi non è l'acqua se non sbaglio non è la pioggia ma l'asfalto e probabilmente è così in una grande città come Milano non c'è niente da fare infatti ma teniamo gli occhi accesi inoltre c'è anche un allerta sull'Ambro quindi anche quello viene allertato in questo momento sto guardando allerta di livello criticità elevata criticità elevata sull'Ambro devo dire che le proiezioni però danno tutta la situazione poi nella giornata che dovrebbe andare a migliorare dovrebbe andare a migliorare stiamo per raggiungere il picco capiremo capiremo intanto qualche giorno fa Urban File titola San Siro più vicino alla tanto attesa preferenziale 90-91 tra Stuparic Zavattari e 8 Zavattari sarebbe ora sarebbe ora sì perché è stato pubblicato qualche giorno fa il bando di gara per l'intervento previsto appunto tra Stuparic Lotto e Zavattari per il completamento oddio completamento a me non pare che siano iniziati cioè no in realtà i lavori sono iniziati per carità no credo il completamento della preferenziale perché è l'unico punto in cui non c'è ah per il completamento ah sì è l'unico punto in cui non c'è assolutamente l'unico punto però da quando hanno tolto i parcheggi e meno male dissestati veramente vergognosi per una città come Milano soprattutto parcheggi iper utilizzati considerando che siamo in una zona strategica tra i vari concerti partite eccetera una volta che hanno tolto quelli poi ho visto sostanzialmente i cantiere ferro ah sì 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 adesso è stata aperta la gara di bando vedremo vedremo se effettivamente ci sarà quel famoso vialone dei rendering che unisce le tre piazze con gli alberi la ciclabile se non sbaglio mi ricordo il rendering dove c'era poche parole che passava anche a livello superiore passava sopra c'era un'unico che era Parigi era stupendo che era Parigi mi piace come bello come paragone mi piace mi piace mi piace andiamo con un po' di musica Super Milano in questo momento non fa surf sull'acqua ma lo fa in un'altra maniera non andiamo a indagare ma loro sono i baustelle con Charlie fa surf Charlie fa surf baustelle che pezzettone lo posso dire sempre un gran pezzone è recuperato l'ultimo disco che è un capolavoro si grande grande l'ultimo disco veramente bello allora un aggiornamento Val Furva mi guarda Sevedo ha rallentato per fortuna in dieci minuti è sceso di un centimetro bene quindi vuol dire che si sta a stazionare qua in zona San Siro ha smesso stazionando quasi smesso tanto che abbiamo visto uno scogliattolo passare nel nostro cortile un minuto fa infatti invece la situazione è ancora molto critica a sud conca fallata livello idometrico alle 8 di oggi era di 3 metri e 0,7 fate il conto che appunto a 3 metri inizia l'allerta rossa c'è un grafico giallo arancione rosso proprio attenzione capito ATM capito ATM che quando lo stato viene scritto regolare e non rosso e verde che è molto comodo vediamo vediamo un attimo ATM abbiamo constatato questa cosa poco fa in questo momento è tutto regolare sulle metropolitane di ATM non è verde no è scritto regolare prima c'era l'effetto visivo molto importante c'è ancora sull'app 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 se vuoi ti do la lista di quello che sta succedendo al traffico invece di ATM tram 5 tram 9 tram 10 bus 54 bus 55 e 925 bus 77 783 e poi tram 479 31 chiamare ora repasticciano sulla ruota di Milano appunto questo è il momento con varie situazioni diverse tagli di linea cambi bus sostitutivi rallentamenti mattinata complicata però è venerdì l'hanno detto anche i nostri amici che ci hanno scritto al 33178 53555 che la mattinata è complicata ma bisogna seppur bisogna andare come diceva la canzone ma niente andiamo andiamo Shakira 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 l'indir skinny dir è sempre difficile dire come si chiama line dire skin dry io ho sempre detto leonard skinner va bene leonard skinner a proposito colgo l'occasione per fare un per fare un diciamo alzare le mani perché Fabio te una volta eravamo a pranzo a casa di una di una collega diciamo e sostanzialmente non ricordando il nome della figlia me lo sono mangiato e tu mi hai come dicono i giovani sgamato e io ho detto no ma me lo ricordavo che si chiama tot e io perché ho detto passi per favore il sale Anna salutiamo Anna che ci sarà ascoltando sicuramente mi hai chiamato io ho detto no ma me lo ricordavo invece l'avevo detto apposto mi passi il sale si si fa così allora mi è successo questo a un vento che siamo andati con tutta la truppa settimana scorsa a un certo punto incrocio una persona grandissimo che mi guarda mi sorride io gli sorrido ma non mi fermo a quello gli dico anche ciao come stai quanto tempo questa persona mi dà corda però quindi ci siamo messi e gli abbiamo fatto anche un'intervista non sapevo chi fosse no proprio zero non so come è mai nata questa cosa interessante anche l'intervista devo dire la verità un bel contenuto però non so credevamo di conoscerci invece forse non ci eravamo neanche mai visti in vita nostra però non so è stato quindi succede una volta queste cose tutto questo è nato perché non sappiamo pronunciare l'Inderskinner l'Inderskinner come si dice 3 3 1 7 8 5 3 5 5 5 ma andateci un audio come si chiama il cantante di Isby Tom Alabama il gruppo il gruppo è un gruppo non è uno sono tipo sono tipo in otto ma non è come Bon Jovi no che è John Bon Jovi dei Bon Jovi i Bon Jovi sono i Bon Jovi sono molti sono molti continuiamo con le notizie il comune di Cologno Monzese posso dire solo una cosa complimenti a Google che stavo cercando notizie su l'Inderskinner l'ho scritto Linidrd Skindindriur e lui mi ha detto forse cercavi i miei dischi complimenti grazie si con la band sono una mia sono una mette di mille effettivamente non l'ho mai accorto se senti subito Malabão ci sono Ronnie Van Zant 3-4 chitarre che arpeggiano sotto Ronnie Van Zant Ronnie James di io conosco e basta c'è la pronuncia se vuoi no quella roba strana con tutti i simboli strani che devi leggere la trascrizione fonetica se non sbaglio Lennard Schienerd una roba del genere giusto conferendo la legge che si tratta di trascrizione fonetica trascrizione fonetica si dice così ho fatto un esame ma non me lo ricordo assolutamente anche io ho fatto un esame ma ti interessa o no la notizia di Cologno avevo scrittura di alti fai le battute va bene dai va avanti che anche io ho fatto un esame e avevo i trigliceri di alti va bene comune di Colonia Monzese municipium nuova app del comune ogni quanto pensi perché è romano tu e la risposta è questa tanto da farci un'applicazione chiamata municipium la grafica è veramente accattivante io la scaricherei anche se non sono di Colonia Monzese la nuova app del comune di Colonia Monzese news, eventi, informazioni utili punti di interesse e il nuovo servizio di segnalazioni per comunicare disagio di servizi e a me queste politiche di prossimità fanno veramente molto piacere ah ok no 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 le apprezzo tantissimo tutti i municipi anche dovrebbero avere o una pagina curata bene o un'app un qualcosa in cui le persone sostanzialmente segnalano disagi e colui che se ne occupa deve badare a tante vie sì però non come tutta Milano la storia di un territorio la storia di un presidente municipium il prossimo film di Caterina Antola presidente municipio 3 salutiamo Zanelli sindaco di Colonia Monzese sarà travestito da gladiatore il tuo gladiatore personale il tuo sindaco il tuo imperatore municipio 4 torniamo dentro dentro le mura della città dentro il comune di Milano noi andiamo nell'Interland sì perché è tutto pronto a partire dal lunedì 6 novembre la biblioteca Calvairate ehm sostanzialmente no ho dato l'intonazione sbagliata ah ok ho dato l'intonazione sbagliata allora fate così mettete tornate indietro adesso se potete un attimo esatto nella vostra vita tornate indietro di un minuto perché io mi ricordo zona 4 torniamo dentro le mura allora prima posso giustificarmi con Davide Borghi assessore del municipio 4 sempre 4 diverse volte abbiamo parlato della biblioteca di Calvairate che era chiusa allora ho letto a partire dal lunedì ho detto basta è aperta invece no a partire dal lunedì 6 novembre la biblioteca resterà chiusa durante il mese per sistemare nuovi arredi e ricollocare l'intero patrimonio di libri musica eccetera sì no perché credo che fosse stata appena riaperta ma devono chiudere per mettere a posto tutto quanto la previsione era aprire all'inizio di dicembre mi scuso se vi siete vestiti in quei 20 secondi mi scuso ma quando è che chiude lunedì quindi possono andare oggi mettetevi una cerata addosso se volete potete andare oggi a partire dal lunedì 6 novembre mi sono fatto il film perché mi ricordo proprio il collegamento con Davide Borghi fuori dalla biblioteca di Calvairate è una cosa che noi stiamo seguendo da diverso tempo non ti ricordi forse il contenuto che mai ti diceva che apriva all'epoca ma io facevo il producer non parlavo 3317853555 il nostro numero di whatsapp grazie mille a Katia che ci sta scrivendo e ci ha scritto buongiorno anche a me capita spesso di dimenticare i nomi mai quelli importanti però ma nel caso ciao cara ciao caro mi va sempre bene però al tavolo cara scusa carissima carissima mi puoi passare l'acqua grazie grazie bomber bomber è passato di moda finalmente c'è solo Bobo Vieri che continuo a utilizzarlo lui e la sua pubblicità penso che sia un mezzo marchio ormai pensavo fosse un mezzo matto pensavo dicessi no marchio di fabbrica sì credo sia proprio registrato da lui no no credo sì poi c'erano tante cose no e beh c'erano le cose che organizzavano di calciotti di foot volley si si chiamavano non mi ricordo play like a bomber una roba del genere non mi ricordo eh no non posso dirlo non posso dirlo mi fanno segno alla regia non posso dire quella cosa lì per farsi la barba non si può dire ricordo che c'era la riviera romagnola se mi pagate dico tutto quello che volete ci mancherebbe in quegli anni lì stiamo parlando ormai prima del covid c'era la riviera romagnola che era costellata di campetti foot volley adesso no con Bob Bovieri che partiva a Cervia adesso è uguale con il padel è vero è vero tra invasati di padel è vero sì con le ladagne perché non ho ancora incontrato il sottoscritto posso dire che io ho il padel non lo capisco l'hai già detto tante volte è un tuo problema è un tuo problema allora lo rivendico allora lo rivendico va bene io aborro io aborro allora andiamo invece vi do un attimo una sveglia perché se qualcuno di voi stava ancora dormendo qualcuno di voi ancora non è scelto da letto adesso lo tiro giù io va bene proprio vi tiro giù di forza perché ma non dico niente faccio solo spartire la schitarrata che vi sveglierà più forte di tutte le altre mattine vento d'estate Max Gazzè Niccolò Fabi sì veramente veramente bella bella anche quando hanno fatto il concerto a tre ah con Fabri Silvestri Gazzè Silvestri Fabi 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 non Fabri che hai detto Fabri tu sono ero di troppo no ho detto va bene tornate indietro e ascoltate Niccolò Fabi grande forse della scuola romana recente non solo il miglior cantautore italiano a mani basse molto molto bravo a mani basse ha dei testi veramente beh che Gazzè si difende bene sì Gazzè si difende bene e anche Silvestri si difende bene secondo me infatti i loro tre insieme hanno fatto io l'ho visti al Palatrussardi forse no può essere al forum secondo me il Palatrussardi era già smantellato ma non so comunque se l'ho visti in un palazzetto qua a Milano adesso non so non ti sei potuto guardare che roba no vabbè me l'hai chiesto vabbè può essere vabbè comunque li ho visti bravi devo dire tutti e tre veramente bravi Bicota a margine non so se lo sapete molti di voi lo sanno Max Gazzè che nasce come bassista di Daniele Silvestri tra i vari l'altro giorno stavamo parlando è difficile fare il bass ci siamo dimenticati insieme a Sting eccetera anche Max Gazzè che suona al basso mentre canta è vero è vero cosa difficile ma più difficile ancora diciamo essere batterista cantante Phil Collins batterista cantante alcuni ci sono sai che ho visto una versione teatrale su Youtube nei giorni scorsi di The Rock Your Picture Show e c'è Phil Collins che fa una piccola parte fa il lettore quello che legge One Step to the Right e lo fa lui poi lo fa anche Emma Banton ogni volta che entra cambia e sono delle star inglesi che fanno ma volevo darti un po' di cultura visto che tenei bisogno io l'ho visto io qualche alluminio fa ho fatto al teatro comunale di Abbet e Grasso sono andato a vedere il Rock Your Picture Show ok sono vecchio no no è bellissimo è bellissimo il Rock Your Picture Show è fantastico tant'è che stiamo cercando di organizzare di tornare se lo dico anche così di andare al Mexico vediamo se adesso andiamo a capire se c'è ancora ma sembrerebbe che tutti i venerdì sera al Mexico si faccia ancora non so se tutti i venerdì sera sei mai stato al Mexico a vedere allora non sei un vero milanese vento d'estate sì però io vado al mare voi che fate però non solo per il tempo che c'è fuori come abbiamo detto è passato a lui e di conseguenza piano piano ci avviciniamo alle festività natalizie sì Milano Natale va a braccetto con una cosa so che odi Sant'Ambrogio no ah no scusa una cosa più commerciale la rimascente no la fila d'artigianato ma lo vi ma no allora è arrivato il pass se siete andati l'anno scorso o precedenti anni alla fila d'artigianato con la mail avete lasciato la vostra mail per ricevere il pass vi sarà già arrivato regolare regolare sono entrato anche nel profilo nel canale whatsapp della fila d'artigianato fila d'artigianato non me ne voglio a Milano Fieri ma è una delle robe che detesto più di tante cioè adesso più di tutte adesso non voglio rubare il mestiere e ribico la sua gli eventi della settimana a cui non andrei che anzi nasce non mi ricordo se nasce per la fila d'artigianato o per il fuorisalone ma uno dei due che sono i suoi grandi i suoi grandi nemici stamattina ho visto il primo post di gente che ha detto finalmente perché c'era la locandina io ho pensato a te dicendo chissà se magari oggi o domani o lunedì diamo questa notizia ecco subito sono entrato nel canale whatsapp è bella la fila d'artigianato è bella perché ti fa impazzire perché è pieno di gente ti fa impazzire inteso ti fa uscire i nerbi infatti perché è pieno di gente i trolley mi stava scappando qualcosa che magari non si poteva dire alle 8.48 di trolley che vanno in giro che si portano tutti ti sale la carogna ti sale diciamolo 8 euro te lo porti a casa una birra 5,50 euro ma è un buon mercato beh rispetto agli standard milanesi quanto costa una birra fuori no non bevo la birra e le poche volte che la compro vado al discount a comprarla per i miei amici quindi pensa cosa gli do da bere soprattutto ai miei amici 6,50 euro 6,50 euro una birra una birra 6,50 euro una birra in un locale scusate se caddo dal pero anzi caddo dal luppolo secondo te quanto costa un cocktail nella Milano da bere 8 euro di più? beh parlo con la regia che ha più o meno la stessa età ma mamma mia sembra chi era quel ministro che non sapeva quanto costava un litro di latte quello era il tranello di Salvini sembra lui comunque tria ministro dell'economia del governo sembra lui in questo momento cioè scusate quanto costa un cocktail a Milano una decina di euro una decina di euro a Milano che era da mangiare nel patatino no come no una decina di euro appunto nei posti un po' più di movita si arriva anche a 12 sotto gli 8 non trovi niente ma 8 nel posto sì ma capito le pizzette c'è quando faccio l'appi-hour zero no l'appi-hour costa anche un po' di più ma come di più valori look and eat a sto punto quindi ti rendi conto che adesso i 5,50 euro massimo massimo 6 ma no viva la fine dell'attigianato domani tutti liano a sto punto e poi soprattutto birre diverse ma davvero 12 euro un cocktail se vai all'arco se vai in Coso Sempione ti prendi un gin tonic lo paghi sicuramente tra i 12 e i 15 regia? sì no perché è un po' alcoolizzata quindi ci dà l'ok grazie grazie alla regia che hai fatto questo è la battaglia sul caro vita c'è un distaccamento degli alcoolisti anonimi in regia quindi grazie per confermarci i prezzi no purtroppo sì Fabio mi hai sconvolto io sono a Stemio quindi queste cose non le so quindi non ci vado a fare le perite vabbè uno sprizzino uno sprizzino adesso comunque 6 euro minimo cioè hai capito vabbè ho capito capito si parte da quei prezzi lì si parte ci riproviamo adesso è partita sono i Rage Against the Machine Guerrilla Radio e allora adesso sveglia aaaaaa aaaaaa grazie a tutti